Sul marketplace di Facebook non si rischia la truffa solo quando si vuole acquistare un oggetto ma adesso la rischi anche se lo vuoi vendere l'oggetto. Come? Te lo spiego. Sarà meglio che mi attieni la parola amico mio. Questi truffatori se ne inventano ogni giorno una nuova per spillare soldi a chi acquista. C'è chi si fa pagare e poi non spedisce l'oggetto, c'è chi si fa pagare e poi spedisce un mattone o qualsiasi altra cosa, c'è chi si fa pagare tramite un link che in realtà non è un link di pagamento ma serve solo per spillarti i dati del conto e poi svuotartelo. Ma adesso c'è anche il truffatore diciamo evoluto che invece che fare un annuncio per truffare chi acquista truffa chi gli annunci li fa già. Sì, tu proprio tu che vendi rischi di essere truffato da uno di questi truffatori che fa un acquisto per finta diciamo ma te lo spiego nel dettaglio come funziona. Uno di voi mi ha segnalato questa truffa per la quale ho chiesto anche degli screenshot proprio per capire come agisce il truffatore nel dettaglio. Ecco cosa ho scoperto. Innanzitutto ho analizzato il profilo che sembrerebbe di una donna dell'est Europa di 61 anni che attualmente vive in Francia. Le foto si presentano con tanti like ed anche alcuni commenti che oltretutto sono in lingua estone a cui però lei non risponde mai. Ma a parte foto sue di qualche gattino e dei fiori non ci sono foto con tag con amici piuttosto che foto di luoghi e quant'altro ma il profilo non è fake è stato creato tanto tempo fa infatti leggendo tra i commenti ho visto questo link. Il link lo ha postato una persona che in lingua tedesca dice proprio che il profilo è stato hackerato e utilizzato da truffatori e di segnalare la cosa a Facebook. Sarà anche lui vittima di una truffa? Analizzando gli screenshot possiamo notare che il truffatore non parla ben italiano e sembra quasi usi molto Google traduttore. La nostra utente che per privacy chiamerò Carla fa presente ad inizio conversazione che il prezzo dell'oggetto è di 10 euro e si può notare subito la gentilezza del truffatore che è disposto addirittura ad aggiungere altri 10 euro solo per assicurarsi che l'articolo venga tenuto da parte e non vada venduto ad altri. Ma veniamo al cuore della truffa perché quando Carla chiede se deve spedire o meno l'oggetto il truffatore fa presente che farà il pagamento tramite FedExpress e non appena Carla riceverà i soldi il truffatore manderà il corriere TNT a recuperare l'oggetto. Dovrebbe essere perfetto quindi io ricevo prima il pagamento e poi spedisco l'oggetto. Ma c'è un ma. Carla ovviamente non conosce questo metodo di pagamento che oltretutto è spiegato male e chiede delucidazioni quindi il truffatore chiarisce che Carla dovrebbe ricevere i contanti in una busta consegnata da FedExpress e nel frattempo dovrebbe venire a ritirare il pacchetto. Ma non era TNT che doveva ritirare il pacchetto questa cosa non l'ho capita ma andiamo avanti. Precisa inoltre che le spese di spedizione sono a carico suo ma c'è un costo di assicurazione che Carla dovrà pagare prima di ricevere i soldi in contanti. Ma niente paura perché come dice il truffatore basta aggiungere questa cifra al costo dell'oggetto più 10 euro per tenerelo da parte e il gioco è fatto. Ma Carla giustamente perplessa chiede che assicurazione debba avere la busta. Si intenderà l'assicurazione del pacco dell'oggetto? E se l'acquirente paga il corriere non sono già pagate anche le spese di assicurazione? Ma ovviamente Carla non ottiene risposta a questa sua domanda. Le viene solo fatto presente che FedEx fa questa assicurazione e che Carla dovrà pagare tramite mail in cui ci sarà un link apposito proprio per il pagamento. E solo una volta che Carla avrà pagato l'assicurazione allora si potrà concludere la trattativa e verrà il corriere con la busta con i soldi dell'oggetto più quelli dell'assicurazione. Carla quindi dubbiosa di questo metodo di pagamento chiede se si può fare un bonifico oppure una ricarica poste pay ma il venditore sparisce senza più dare risposta. Anzi secondo me alla fine ha anche bloccato la nostra amica Carla. Ma quindi che cosa è successo? Magari Carla poteva offrire Paypal che era un metodo sicuro e il nostro venditore avrebbe accettato? No il nostro venditore non avrebbe comunque accettato perché l'obiettivo era proprio farsi pagare questa assicurazione finta in anticipo per poi non mandare nessun corriere a tirare il pacchetto. L'analisi di questa truffa ci insegna che numero uno i profili non sono sempre appena fatti senza foto oppure sono strani anzi spesso e volentieri hacker hanno proprio profili vecchi oppure con password deboli per usarli per questo tipo di truffe. Numero due non parlano in italiano fluente anche se prima o poi si evolveranno se vogliono truffare italiani e parleranno sempre meglio italiano quindi qua potremmo avere fatica nel riconoscerli. Numero tre comunque in qualsiasi caso l'obiettivo è quello di farci pagare prima con una qualsiasi scusa. In questo caso assolutamente non pagare mai nulla altrimenti perderemo solo i nostri soldi. Comunque ho notato che anche TNT ha preso a cuore la faccenda infatti ne parla sul suo sito. Vediamolo nel dettaglio. Proprio in una sezione specifica del sito c'è scritto che FedEx e TNT non richiedono pagamenti informazioni personali attraverso email o sms non richiesti al fine di ultimare la consegna di spedizioni in transito o custodite presso una loro filiale. E se ricevete comunicazioni di questo tipo vi consigliano di non rispondere e di non interagire in alcun modo col mittente e di non cliccare su link riportati in sms o altri messaggi sospetti che ricevete. In ultimo fanno presente che si può mandare una mail a loro con le comunicazioni ricevute cosa che però trovo un po' inutile perché loro di per sé non possono fare nulla. Cosa molto più utile invece segnalare il profilo come hackerato ci vanno due click e noi stiamo più sereni e magari evitiamo che qualcun altro possa cadere in una truffa. Ehi il video non è finito qua qui la ti troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da youtube mentre qui al centro il tasto per iscrizione non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link e i miei social network il prossimo appuntamento venerdì alle 14.